approfittiamo della spooky season di ottobre di questi giorni che ci portano a halloween per fare qualche discorso un po più serio se così si può dire sulla funzione della narrativa del torrore sull'horror e su quanto esso possa risultare interessante anche a chi magari così a pelle lo schifa lo evita e ne parla male anche se poi alla fine chi più chi meno tutti ci siamo avvicinati in un periodo nell'altro della nostra vita alla una qualche forma di narrativa del terrore secondo me magari anche da p anche solo da piccoli con le fiabe per esempio che togliendo la loro edulcorazione del periodo disneyano sono sicuramente dei grandi esercizi di narrativa del brivido da cui tra l'altro derivano poi molti titoli molti archetipi dell'horror moderno ma non volevo fare un'analisi di questo tipo una dissertazione noiosa sulle origini dell'horror moderno piuttosto mi capita spesso prendiamola così guarda mi capita spesso che qualcuno di leggere che qualcuno in rete dichiari di essere rimasto assolutamente terrorizzato da una serie tv da un film horror o da un libro horror e un po mi stupisco perché a me invece questo capita davvero raramente varia a dire che non sono quasi mai ma dico quasi mai nel senso che potrei dire non sono mai impressionato da modo particolare da quello che vedo raramente mi capita di incappare in un'opera che mi susciti angoscia mi susciti terrore e che mi in qualche modo mi cambi l'umore in modo continuativo anche dopo la fine di aver usufruito di quell'opera ovvero anche dopo la fine del film della serie tv o del libro quindi è molto difficile forse sono poco impressionabile anzi sicuramente sono poco impressionabile o meglio può capitare che durante la visione di un film per esempio rimanga impressionato da una scena da un contesto o lo stesso leggendo un libro o guardando una serie ma chiuso quel capitolo chiuso quel momento quelle due ore di film per esempio non non mi rimane quel senso di angoscia di sconcerto invece a volte leggo questa dichiarazione ho visto questo film ne sono uscito totalmente scombussolato insomma poi abbiamo tutti sensibilità diverse e questo è un dato di fatto probabilmente la mia sensibilità a questo tipo di opere è bassina magari rimango ecco più emozionalmente scorso da film drammatici quelli fatti bene che non sono poi tanti ma quelli fatti davvero come si deve mi lasciano qualcosa perché perché vanno a riflettere vanno a analizzare quei periodi della vita quelli fatti della vita che appartengono un po a tutti noi e qui farei un perché perché molte opere horror in realtà suscitano il jumpscare ovvero ti fanno saltare sulla sedia con la scena con il dettaglio raccapricciante col capitolo che va a toccare quelle paure immediate e ancestrali per esempio la paura non so di animali striscianti la paura di un assassino nascosto nel buio di uno sconosciuto che ti si intruffola in casa di notte insomma queste paure ancestrali e immediate che si viste in quel momento lette in quel momento sicuramente ti scuotono ti scuotono in quel momento stesso però ripeto ci sono persone che come me passato passato quella scena tornano assolutamente a fare la loro vita tranquillissima e di quel film di quel libro non 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 resta che un buon ricordo anzi un ricordo divertente non certo terrorizzante le opere che fanno davvero paura e che restano dentro sono quelle che a mio parere vanno a toccare delle angosce che attraverso magari anche la metafora del fantastico trattano comunque di fatti che ripeto come nelle opere drammatiche appartengono all'esistenza di tutti noi per esempio a me lovecraft piace sicuramente uno dei miei autori preferiti ma l'ho sempre amato per la fantasia per il modo in cui ha costruito il suo pantheon il suo universo ma non mi ha quasi mai fatto paura non mi ha mai appunto cambiato le emozioni se non in modo positivo nel senso che ho apprezzato mi sono divertito ho avuto grande gusto ho grande gusto leggere sue opere ma non mi hanno angosciato al punto che chiusi i suoi libri sono rimasto lì a pensare a che paure grandi antichi l'ignoto cosmo in cui si nascondono gli idee esterni no non mi è mai successo così come moltissime opere di altri autori davvero è davvero difficile parlando anche per esempio solo di libri che io incappi in un autore che mi lascia quel senso di disturbo dentro quel che si protrae magari a lungo un'opera che per esempio invece davvero mi ha angosciato perché forse angoscia il termine giusto la paura un'altra cosa è ecco io non volevo citare sempre king ma lo facciamo perché così lo conoscete tutti è cimitero vivente il libro parliamo anche il film è molto bello il film l'originale il remake un po meno ma diciamo discreto ecco il libro cimitero vivente è uno di quelle di quei libri e ne parlavo anche tempo fa con un'amica che ti rimangono dentro non tanto per le scene horror di sangue splatter le resurrezioni gli omicidi ma perché è un libro sul senso di perdita sull'elaborazione del lutto ed è una cosa che appartiene a tutti noi inevitabilmente e attraverso la metafora del fantastico del soprannaturale king in questo questo libro che sicuramente uno dei suoi che preferisco dopo le notti di salem che appartiene appunto un'altra tipologia di horror secondo me che non mi desta quel senso d'angoscia invece questo sì è sicuramente uno dei suoi libri che preferisco probabilmente quelli che ho citato sono i suoi due titoli che preferisco devo citarne un altro che purtroppo non ho sotto mano perché l'ho letto tempo fa e l'ho perso come mi capita quasi sempre è la ragazza della porta accanto di jack ketchum che è uscito in italia anche per gargoyle credo sia riperibile oramai solo nell'usato un racconto che mette a nudo attraverso dei personaggi che sono adolescenti o addirittura preadolescenti il senso di violenza che può nascere dal gruppo anche se incitato come in questo caso da adulti e violenza che si riversa su una povera ragazzina di 16 anni che veramente in questo romanzo la ragazza della porta accanto ne subisce di ogni in modo estremamente crudo descritto minuziosamente da jack ketchum tanto che è un'opera che a molti non piace proprio per il suo essere spietata perché si è la parola giusta jack ketchum nella ragazza della porta accanto mette in mostra una spietatezza che appartiene può appartenere a tutti noi e probabilmente in un certo periodo della vita di noi adolescenti è appartenuta quando abbiamo fatto del male a qualcuno anche solo a parole prendendo in giro il compagno di classe che magari aveva qualche difetto fisico o quello che veniva isolato insomma queste cose questi atti di bullismo in cui credo ci siamo cascati un po tutti magari anche solo per una volta non come vittime come carnefici e a me la ragazza della porta accanto è un romanzo che mi ha messo angoscia e mi ricordo ancora oggi non tanto appunto per le scene comunque davvero molto violente che subiva questa ragazzina che subisce questa ragazzina nel romanzo ma perché ha messo a nudo un aspetto del carattere di quei ragazzini al contrario magari di quelli tipo di hit di king che sono comunque votati al bene qui sono votati al male e mette in luce l'autore il fatto che quel male può essere insito in tutti noi soprattutto anche in tenera età ed è un tipo di angoscia che appunto va a incidere su cose molto reali attraverso l'elemento dell'horror in quel caso senza sopranaturale invece in questo caso in cimitero vivente con l'elemento sopranaturale a fare da da leva ecco io vi chiederei a conclusione del video se quali sono i titoli parliamo magari solo di libri che vi hanno messo angoscia non paura se ce ne sono perché secondo me non è così facile identificarne ripeto io escludo poor lovecraft bellissimi tra i miei preferiti ma non mi hanno mai messo angoscia caso mai paura ma il raccapriccio e schifo in qualche scena ma non paura non angoscia esistenziale lascio a voi la parola